Io mi chiamo Elisa, lavoro in Confindustria per l'associazione che tutela gli interessi dell'industria automobilistica e sono la responsabile delle relazioni istituzionali. Al di là di questo, sono solo una dei 50 ragazzi che partecipa al Master e sta diventando un'esperienza davvero bella, di giorno in giorno più entusiasmante e questi giorni qui in Dolce ne abbiamo trovato un ambiente tanto accogliente, molto, diciamo così, creativo, sia per il contesto in cui è, sia per la capacità e l'energia che si sente in azienda, per il mondo giovane che c'è dentro, per te che sei dietro la telecamera. È la seconda volta che vengo qui, c'ero venuta già qualche anno qua con la Confindustria ma io ero ancora molto giovane di esperienza, sapevo cogliere di meno, adesso mi sembra di essere un po' più matura e di saper cogliere di più e questo è davvero un'officina, un posto bello dove crescere e far crescere le persone. Grazie per averci raccontato le tue impressioni. Grazie. Ciao.